Oh mio Dio, quel nepotista figlio di Puzzana dà il mio posto a... A suo figlio. Tu per chi lavori? Sono la sua nuova assistente. Ha costretto Daniela ad assumerti perché non voleva più che suo figlio avesse la tentazione di andare a letto con le assistenti. Sono innamorato di un'altra. Gina Gambarro. Mi hai rotto il plasma! Sono molto scontenta. È un piccolo ostacolo, ma è solo questione di tempo. Quando lui sarà fuori dal gioco, avremo la società a portata di mano.